Cari concittadini, oggi giorno di Pasqua, a nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale vorrei augurarvi una serena Pasqua. Oltre a questo messaggio di augurio in tempi di Covid, io devo dare dei messaggi, alcuni messaggi non piacevoli in questo momento. Un messaggio è che la positività sul nostro territorio sta aumentando. Siamo a 45 positività sul nostro territorio. Oltre a queste 45 positività sul nostro territorio, di mia conoscenza abbiamo 4 dei nostri concittadini ricoverati presso i reparti Covid-19 dell'ospedale Maria Giannuzzi di Manduria. La raccomandazione che mi preme fare di più oggi è quella che le visite tra parentesi si possono fare, ma piccole visite tra parenti, non assembramenti tra parenti. I congiunti possono vedersi una volta al giorno, ma non stazionare per fare comunella. Ecco, fatemi passare questa parola e, ahimè, creare le condizioni di contagio tra famiglie. Ecco, questa è la mia raccomandazione. Stiamoci attenti, restiamo quanto più possibile dentro casa. Usciamo meno possibile solo per necessità, per farmacia, medicinali, per motivi di salute e per approvvigionamento alimenti. Questa è la mia raccomandazione, altrimenti, altrimenti, dalla prossima settimana, se i contagi saliranno ancora sul nostro territorio, sarò costretto a prendere provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme regionali e nazionali. Io con questo vi lascio, vi auguro una buona e serena Pasqua, arrivederci alla prossima comunicazione.